Novena ai pastorelli di Fatima, nono giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Oh, luce peatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Oh Francesco e Giacinta, voi a cui la morte non ha fatto paura e che la Madonna venne a prendere per portarvi in cielo, insegnateci a guardare alla morte non come una disgrazia o a un'assurdità, ma come all'unico mezzo per passare da questo mondo a Dio, per entrare nella luce eterna dove incontreremo coloro che abbiamo amato. Infondete in noi la certezza di questo passaggio. Non avrà nulla di pauroso, perché non lo affronteremo da soli, ma con voi e con la Madonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.